Allora, questo collegamento l'ho voluto io e lui non lo avrebbe voluto, ma io invece sì, per un motivo molto semplice, voglio soltanto ritornargli una medaglia di serietà e di lealtà, proprio come opinionista, principe, ma ancor più come uomo. Massimo Mauro, buongiorno! Ciao Marcello, come stai? Io bene, tu come stai Massimo? Beh, insomma, sempre molto tardi, domenica, notte, mi sono appena svegliato, però sto bene. Stai bene, sì perché poi c'hai dei trasferimenti, insomma, dei viaggi la notte, quindi il lunedì mattina, ecco. Io invece ti ho disturbato, intanto grazie per averci accolti, perché... Solo per te, solo per te, è la verità, è la verità. Ti ringrazio molto, ma io ti volevo riconoscere un atteggiamento veramente esemplare, perché tu ieri, per esempio, avresti potuto maramaldeggiare, no? Come fanno in tanti, io l'avevo dette, qua e là, sei quello che con Ranieri per primo ha avuto dei faccia a faccia molto importanti, su reti televisive importantissime, quali la tua, vedi Sky, eccetera, eccetera. E ieri invece tu hai detto di Ranieri delle cose molto belle, molto belle che ti fanno onore, perché hai detto attenzione, perché le colpe di Ranieri sono relative, no? Questo hai detto, eh? Ma sai, io sono onesto intellettualmente, poi posso sbagliare ovviamente, ma tra l'altro stando lontano dalle cose che riguardano la Roma, io non sapevo di problemi tra giocatori, allenatori, società, io analizzavo quello che era capitato e quindi magari anche impropriamente, perché veramente non sapevo di problemi, no? E sono stato attaccato per questo. La cosa che devo dire è che mi dispiace molto che dei ragazzi tifosi si rovinano la vita e quindi scontri con la polizia e quindi magari problemi personali per questioni sportive. La cosa che mi dispiace è proprio, io ho sempre adorato le situazioni extracalcistiche romane, no? E tutto quello che girava attorno poi al tifo, una cosa, per me Roma era un posto fantastico da vedere da dentro il campo, lo stadio, le coreografie, il tifo, le canzoni, venditti, che ne so? Sono tutte cose che da bambino e da ragazzino tifoso, io adoravo tutto questo. Ecco, vedere la Roma in queste situazioni qui mi dispiace molto. Speriamo che si recuperi presto, insomma, le questioni sportive e che ritornino tutti i problemi. Ti volevo chiedere, Massimo, si parla di Montella, no? Di Montella come la soluzione al 90%, credo da qui a qualche minuto lo annunceranno. Un tuo pensiero? È l'uomo giusto? Le condizioni del momento te lo fanno vedere come quello proprio a posto? No, io continuo a sperare che Ragneri rimanga, guarda. No, è definitivamente... È definitivo. Sì, 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 è definitivo. Siccome stamattina non ho sentito niente ancora. No, no, è definitivo. Guarda, la partita di ieri, io ho scritto che è inspiegabile, no? No, non saprei che cosa dire, perché io ieri l'ho sbirciata la partita e vedevo, perché ho guardato più attentamente Chievo Milan e la Lazio. E la Lazio-Bari. Sì, è Lazio-Bari. Devo dire che non saprei dire, perché 3-0, 4-3, io mi ricordo un Juve-Toro, 2-0, 3-2 mi pare, di tanti anni fa. Una partita del genere non me la ricordo. E si può spiegare, al primo errore mi viene in mente tutto quello che può capitare se continuo a sbagliare. Ecco, i giocatori, il pensiero del giocatore che si terrorizza e prende 4 gol in 20 minuti, in mezz'ora, può essere solo che questo. E quando c'è di mezzo una prestazione fisica e un avversario che approfitta di questo tuo malessere psicologico, perché di questo si tratta, diventa un disastro. E allora, Montella o non Montella, è Ranieri o non Ranieri? E qui c'è una situazione generale che è stata, come dire, difficile da gestire per tutti, dalla signora Sensi a Ranieri ai giocatori. E questo purtroppo è stata la storia della Roma negli ultimi anni e quindi speriamo presto che si risolva. Perché onestamente, Ranieri, che cosa deve fare se Vucinic si incazza quando lo sostituiscono, se Borriello dice cose che non dovrebbe dire, se Totti qualche volta si arrabbia di com'è trattato, e se Mexes si fa squalificare per dire delle cose al quarto uomo dopo che è finita la partita. Cioè, queste sono cose che dovrebbe risolvere una società forte, non l'allenatore. L'allenatore dovrebbe pensare a non sbagliare le sostituzioni e a dare una mentalità, una tattica di gioco adeguata al nome e alla grandezza della Roma. Ecco, la verità è questa qui, che Ranieri è stato abbandonato, ma perché la società non c'era, non perché qualcuno si è divertito ad abbandonare Ranieri. Fai piacere che tu abbia detto questo da campione quale sei stato, perché quanto espresso in corso di mattinata relativamente a ciò che penso dei giocatori. E poi proprio da campione quale sei stato sono a chiederti, ma è possibile che quello che tu hai detto prima, che è verissimo, la paura di pensare a cosa succede se sbaglia ancora un gesto in campo, va bene, possa attanagliare questi giocatori. Qui parliamo, caro Massimo. Ma può capitare. Può capitare. Può capitare. È capitato ai più grandi, ma c'è l'oro. Cioè, questa è una cosa che è difficile da crederci. No, ma come guadagnano tanti soldi. No, no, non è per i guadagni. No, no, ma ti dico, guadagnano tanti soldi, sono esperti, sono bravi, hanno vissuto finali mondiali, hanno vissuto semifinali di Coppa, hanno giocato davanti a 200.000 persone. Però può capitare, cioè non c'è dubbio. Guarda, la cosa più brutta è il cattivo rapporto con i propri tifosi. La cosa che ti condiziona veramente è pensare che i tuoi tifosi ti fischiano e non ti stimino. Cioè, davvero, è una delle cose più antipatiche che può capitare a un calciatore per esprimere poi la prestazione sportiva e quindi le buone partite, insomma, e quindi i risultati. A me condizionava molto. Io ho vissuto a Napoli in una situazione del genere e onestamente preferivo non giocare. Perché sapere di essere bistrattato dai propri tifosi, perché è così? Perché c'è anche una cosa che va al di là, no, del soltanto... Del talento. C'è la voglia di fare qualcosa per qualcuno, no? E il rapporto che si crea tra i giocatori e i tifosi è bellissimo. Se non c'è più, allora me la faccio addosso. E quindi ci sta che la Roma si sia portata a Genova alla contestazione di sabato a Trigoria? Secondo me sì. Secondo me sì. Qualcuno ha tentato anche di farla passare come una cosa che poteva spronare i giocatori. È soltanto disperazione da parte sia dei tifosi che dei giocatori. Ed è una pena, è bruttissimo, no? È una cosa... E spero, guarda, veramente che nessuno si rovini la vita per questo. No, certo. Soprattutto quei ragazzi, evidentemente, che sono stati sabato a Trigoria. Adesso ci può essere un effetto dopo Benitez nella Roma? Hai già capito di che parlo, no? Voglio dire, via colui che poteva essere il problema, si prende tutti con unità di intenti e si ritrova anche quella saldezza psicologica alla quale hai fatto riferimento. Speriamo, perché insomma la Roma ha un pacco giocatori importantissimo e se va fuori dalle coppe diventa veramente un problema anche il futuro prossimo, no? Quindi, devo dire, speriamo che si riprenda presto e che lotti fino alla fine del campionato per andare in Champions League, anche perché, insomma, i punti non è che sono poi tantissimi di distanza, no? Dal quarto posto, quindi ce la può fare, puoi rimettere in carreggiato. Vuole recuperare, certo, va bene. Staremo a vedere. Intanto Massimo, grazie e ancora complimenti per come ti sei. Vengo a Roma e ti vengo a trovare. Ti aspetto, un abbraccio grande, eh? Ciao, ciao, buon lavoro. Complimenti a Massimo Mauro. Ciao, ciao.